Maestro Alessandro Dalmasso, presidente di giuria del campionato italiano di pasticceria Il Signore, qual è l'importanza della partecipazione a queste competizioni? Ma è fondamentale, penso, per un professionista, anche un giovane professionista, iniziare a partecipare ai concorsi e apre un mondo. Intanto socializza e collabora con i ragazzi della stessa età e crescendo nell'ambiente professionale con gli stimoli giusti della competizione sana, per imparare, per crescere e per cercare di portare la propria pasticceria a un alto livello, penso che sia la chiave del successo.